Musica Eccomi qui con un gruppo straordinario direttamente dalla Campania, le fasi, le loro fasi sono talmente tante, insomma siete arrivati anche qui, insomma siamo in casa a Sanremo e questo già è un traguardo insomma, perché promuovere la musica, soprattutto stare insieme, dare spazio ai giovani è sicuramente fondamentale e importante. Allora conosciamo un po' questo gruppo, com'è nato e soprattutto mi presenti anche un po' gli altri. Allora, ciao prima di tutto, sono Genia Rienzo, voce delle fasi, Enzo Servo, batteria, Ernesto Burruto, chitarra, Antonello Amoroso, basso. Allora com'è nato questo gruppo e soprattutto la passione per la musica? Allora, il nostro progetto nasce nel 2012 e quando ormai, veniamo da quattro progetti completamente diversi, quando ormai stanchi di fare sempre cover eccetera, abbiamo deciso di metterci lì e provare a fare i nostri inediti. E diciamo, ci stiamo riuscendo con il nostro piccolo bagaglio culturale che abbiamo ovviamente fatto nel nostro percorso musicale. Veniamo, ti ripeto, da quattro generi completamente diversi, dal pop, dall'R&B, piuttosto che il metal addirittura. Il vostro produttore, insomma, perché ho qui il vostro CD, insomma, molto bello. Tra l'altro noi adesso ricordiamo anche un po' le canzoni, io vorrei parlare anche un po' dei vostri testi perché è fondamentale ricordare che oltre la musica c'è anche un testo e quando nel testo, insomma, ci sono dei messaggi anche importanti è sicuramente fondamentale, insomma, farlo arrivare poi al pubblico, trasferirlo. Per esempio, ricordi di un'estate, quali sono questi ricordi? Allora, ricordi di un'estate, capita, insomma, di avere, sai, in estate qualche amore che inizia in estate e poi appena finisce non c'è più. Diciamo, richiama un poco, ecco, dei ricordi che, insomma, fanno le... Il cuore. Esatto, che vale per i ragazzi, sai, amore adolescenziali, che anche persone mature, adulte, insomma, che capitano, insomma, queste esperienze, diciamo. Voi musicisti, diciamo, che spezzate anche molti cuori, di solito, quando siete lì a fare questi concerti, tutte le vostre fan, vero? Tantissimo, tantissimo. Tanto come no. E poi abbiamo... Allora, questa me l'annunci proprio tu. Quale? La seconda. Allora, Connala Senza Mamma, in realtà, è una cover che è nata nel 1938 da Gennaro Ciaravolo e Giuseppe Sposito. Praticamente, Gennaro Ciaravolo è il mio prozio e ci ha portato in finale al Festival di Napoli, che poi abbiamo vinto, ma quello è un dettaglio, lasciamo stare. Scherzo. E ci sentivamo un po' in dovere, per una questione un po' di sangue, tra le altre cose, e soprattutto perché, sai, a Napoli si ascolta sempre, ovviamente non disprezzando ciò che ha fatto la storia della musica partenopea, tipo Tu sei una cosa grande, piuttosto che Sordata innamorata, eccetera. La musica classica napoletana che, insomma, è nel cuore di tutti e rimarrà, secondo me, indelebile. Assolutamente. Questo è un brano fatto da Gilda Mignonette, che era praticamente l'oratrice degli immigrati, praticamente, partenopei, che partivano appunto da Napoli per arrivare in America. E quindi mai stato così attuale questo brano. E niente, ci siamo sentiti in dovere appunto di rifarlo completamente in chiave rock. Assolutamente sì. E o stupore di un moon, forse è stato proprio questa vittoria al Festival di Napoli? Assolutamente. Diciamo, è un classico pezzo, no, non è un classico pezzo, come posso dire. È un pezzo che comunque dà un'idea di una Napoli bella, una Napoli non sempre buttata giù. In quel senso, comunque, parla della sua storia, delle sue ricchezze. E ci ha permesso di vincere il Festival di Napoli. Quindi io mi complimento con voi. Poi ci sono tanti sorrisi, insomma, quando si è sul palco ci vuole il sorriso. Assolutamente sì. Infatti abbiamo fatto due versioni, una in italiano e l'altra in spagnolo, proprio per lanciarci nel mercato anche internazionale latino. Noi ci teniamo a questa cosa perché nel nostro EP ci sono il pezzo, diciamo, in lingua, in madrelingua italiana, nella nostra madrelingua partenopea. E poi c'è anche il brano Sorrisas che in spagnolo abbiamo voluto omaggiare questa lingua comunque molto musicale. Quindi diciamo è un po', è molto, ci sono varie sfumature e infatti le fasi è proprio il nome che racchiude un po' tutto. Che è la nostra musica, che noi vogliamo portare avanti il nostro progetto e far ascoltare le nostre canzoni, la nostra musica. Dimmi tu. Mi ricollego per la produzione perché prima non avevo, no insomma, siamo prodotti da, no esatto, siamo prodotti da Vincenzo Puglise per Music Station Group Entertainment. Quindi volevo un attimo dirlo. Perché qui a Casa Sarremo siete tutti emozionati voi musicisti, di solito con questa intervista insomma crea un po' il panico, però è giusto anche dare spazio alla musica e soprattutto anche a coloro che investono anche su di voi, quindi i produttori, le case discografiche, quindi dobbiamo ricordare anche voi. Io sono uno che si emoziona facilmente. Ho l'ho notato. Mi blocco, perdonatemi. Allora sciogliamo questa emozione, magari cantiamo un pezzettino live di un vostro successo, lo accenniamo, lascio a te il microfono perché tu sei la voce delle fasi e questa è la fase fondamentale di Casa Sarremo. Ok, vi canto Conalo Senza Mamma. Meglio New York che è napoletana, che ha tutta la vita principale lontana, si è una palacacchiagna per far cantare con la Senza Mamma, fallo tornare, fallo tornare. Que sarremo, sarremo!